Ad un mese esatto dall'evento entrano nel vivo i preparativi della 57-tissima cronoscalata svolte di Popoli, gara motoristica nazionale valida per il trofeo italiano velocità montagna nord e sud in programma dal 9 all'11 agosto. Si sono aperti ufficialmente i termini per iscrizioni alla corsa che potranno essere effettuate entro il 5 agosto attraverso la compilazione e l'invio dello specifico modulo reperibile sul sito internet www.svoltedipopoli.it L'organizzazione è curata dalla SD Svolte di Popoli insieme all'Associazione Quelli delle Svolte, oltre che dall'Automobile Club d'Italia, dai comuni di Popoli e San Maneretto in Perillis, dalle province di Pescara e L'Aquila e dalla regione Abruzzo. Alla competizione tricolore in salita sarà abbinata una parata di autostoriche a cura dell'Associazione Rombi del Passato Autostoriche. Oltre ai premi per i migliori piazzamenti assoluti e nelle singole classi del trofeo italiano velocità montagna verranno attribuiti anche diversi riconoscimenti come il trofeo Asso Minicar per auto bicilindrate, il Memorial Amedeo Natale per il primo classificato di piloti popolessi in gara e il trofeo Corradino Rascanio per il miglior tempo realizzato nella categoria autostorica. La tre giorni motoristica avrà inizio nel centro storico di Popoli con le verifiche tecniche sportive nel pomeriggio di venerdì 9 agosto e proseguirà poi in serata con la presentazione della manifestazione che vedrà il coinvolgimento di piloti appassionati addetti ai lavori nell'ambito della notte delle svolte. Nella mattinata di sabato 10 agosto sarà la volta delle prove ufficiali mentre domenica 11 alle 9.30 ci sarà lo start della gara. È già possibile acquistare i biglietti al costo di 5 euro sia per le prove che per la gara tramite il circuito online Ciao Tickets. Grazie a tutti.